Il gastolo con isolamento diurno per tre mesi è la richiesta del pubblico ministero per Mustafa Alashri, il 43enne egiziano che il 13 novembre 2022 a Fano uccise la giovane moglie Anastasia con 29 coltellate. L'uomo attualmente detenuto nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro dovrà rispondere anche di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e occultamento di cadavere. Riteniamo giusto nel gastolo, le aggravanti contestate sono state provate, ha detto l'avvocato di parte civile Roberta Giuliaci al termine dell'udienza svoltasi al Tribunale di Pesaro. Questa mattina Mustafa Alashri era presente in aula. I legali di parte civile hanno chiesto risarcimento danni di 10 milioni di euro per il figlio della coppia che oggi vive in Ucraina con i nonni. Nella prossima udienza fissata al 15 ottobre la parola passerà alla difesa all'avvocato Simone Ciro Giordano. La sentenza invece è prevista per il 18 ottobre.